un saluto a tutti per oggi abbiamo un iMac connettore del display rotto si vede anche qua sul monitor comunque ci vediamo sotto un microscopio per farvi vedere tutto sono rotte 9 piazzole quindi preferisco di un smontarlo lavoro così ho tirato la lente ballo da 05 vado con la sua quindi dobbiamo ricostruire le 10 piazzole rovinate dopo speriamo che andrà tutto bene ok ci vediamo sotto microscopio con con il lavoro un saluto a tutti 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 un saluto a tutti